Eccoci qua, ben trovati in diretta, quello che state un po' vedendo alle mie spalle già è una parte del percorso della prima camminata dell'amore per sempre a Cividale del Friuli. Ne parliamo questa mattina con Margherita Cozzi e Romano Paludnia che sono venuti a trovarci una camminata che è in programma per domenica 9 febbraio. Allora, sicuramente insomma nel panorama delle camminate, dei ritrovi sportivo, escursionistici, mancava una camminata dell'amore. Come è nata questa idea? Buongiorno a Margherita. Buongiorno, innanzitutto sono orafo di Cividale ed è partita da me questa iniziativa camminata per sempre, dedicata all'amore, all'amore ai nostri figli, ai nostri genitori, ai nostri amici e noi stessi. Si svolgerà in nove, come abbiamo già detto, e partirà una camminata che Romano adesso vi illustrerà. Perché le è venuta questa ispirazione? Ce l'aveva in mente da tanto? È partita da uno schizzo che ho realizzato, un cuore motivato, che abbiamo utilizzato come logo nel nostro progetto. Ok. Ed è creata questa sinergia di questi tre imprenditori, che purtroppo oggi uno dei tre manca, ma lo salutiamo. Va bene, allora raccontiamo di più così diamo qualche dettaglio Romano. Tutto è in collaborazione appunto anche con Walking Run Centro Storico, SD che appunto rappresenti. Parliamo proprio della camminata, anche come si svolgerà. Allora, la camminata parte dal centro storico, appunto dove c'è anche il laboratorio, dove c'è anche un balcone, ma non sveliamo molte cose perché questa camminata è tutta da scoprire. Infatti parteremo dal centro storico, verrà inaugurata questa nuova via dell'amore e ci permetterà di scoprire anche i veri protagonisti nella vita reale, da cui è stato tratto poi la storia anche di Giulietta e Romeo. E quindi da Porto, che era un militare e distanza a Cevidale, passeremo proprio davanti a questa abitazione. Poi faremo un giro di tutte le parti più caratteristiche della Cevidale del Friuli, toccheremo anche i musei. Oltre a passeremo il Ponte del Diavolo c'è il Belvedere, dove c'è anche una tabella che racconta un po' questa storia, no? d'amore vissuto in tempi passati, per poi portarci fuori in periferia e per scoprire anche la parte più bella, più suggestiva collinare del percorso, perché comunque quando si cammina secondo me è qualcosa di bello da osservare, da fotografare, da portare poi nel cuore. Infatti c'è un tratto anche molto panoramico, che si vede anche il Matayur, che è da sempre l'amore per tutti i friulani. Quindi insomma c'è l'idea dell'amore nel logo, poi non a caso siamo vicini a San Valentino, quindi sarà dedicata anche a tutte le coppie. C'è anche nella riscoperta di alcuni luoghi di Cevidale, dunque insomma anche l'amore per il territorio, per una storia che è passata anche da Cevidale. Sappiamo che negli ultimi tempi si è parlato di questa storia che appunto ha riguardato il casatore Savornian, Villa Otelio, che ispirò Shakespeare, probabilmente per il dramma di Giulietta e Romeo, passando appunto anche da Cevidale. Quindi una parte della storia è riguardata anche Cevidale. Ecco, questa curiosità è da scoprire, no? Seguitici anche sul sito persempre.me, che lo trovate anche su tutti i volantini. Abbiamo creato comunque un sito assieme appunto a Margherita e a Giorgio, dove si troveranno tutte queste curiosità, foto, immagini, video di questa storia, ma anche tante altre cose da scoprire. Sono otto chilometri di percorso e poi c'è anche una maglietta, datemi anche tutte le cose, perché questo logo, questa idea disegnata da Margherita poi torna nel... Sì, allora ripasso poi la parola, aggiungo solo una cosa, che questa camminata, otto, nove, quasi nove chilometri, prevede un ristoro a metà percorso, appunto, in periferia, nell'azienda appunto di Giorgio, che comunque... Petrussa, sì. Esatto, perché lui ha un'azienda agricola dove produce birra e vino al naturale, al biologico, ed è un modo poi anche per passare appunto in mezzo alle vigne, che ai filari è un qualcosa di caratteristico. Poi si ritorna in centro, dove avremo modo poi di avere il pasta party, che sono le regole di tutte le marce quando si camminano. Poi... Ci sarà la parte culturale, riconoscimento per dieci coppie, motivate, motivate da una storia per 50-60 anni di matrimonio, per i dieci anni di matrimonio, per una grande amicizia, stiamo raccogliendo le storie tramite e-mail. Sì. Nella pagina Facebook troverete tutte le indicazioni, tra cui l'e-mail. Sì. E anche la spiegazione di per sempre, perché per sempre è una cosa che non c'entra invece con San Valentino. Ah, ecco. C'entra l'amore. Perfetto. Ma l'amore... Pensavo che la vicinanza di data fosse legata a quello. No, perché abbiamo deciso proprio lontano da San Valentino. Quindi è l'amore, l'amore in generale. Quindi non quel giorno, ma lo volete anticipare... E' aperto per tutti, anche per i single. Non solo legato alle coppie, quindi questo è dalla vostra idea. Per sempre. Eh sì, per sempre. Alla fine è anche un oggetto vecchio, tramandato, io parlo del mio lavoro, è un per sempre. Alla fine. E' questo il concetto che avete voluto. In ogni caso, però, appunto, ci saranno queste, alla fine della marcia, quindi ci sarà l'omaggio, il riconoscimento a queste storie che avete raccolto. Siete ancora alla ricerca di altre o avete definito più o meno il... No, ne abbiamo altre da cercare. Stiamo adesso selezionando un attimo le storie, perché naturalmente scegliamo le più motivate, le più particolari. Dovranno partecipare anche alla camminata queste... Sì, ok, perfetto. Spiego un attimo il logo, se posso, che l'abbiamo utilizzato nelle magliette e anche nei palloncini, che io ringrazio i commercianti che anche loro hanno partecipato, quindi ci sarà tutta Cividale con questi palloncini motivati, dove troviamo l'unione di più persone con l'amore. Ok, quindi il logo che ha voluto ideare, c'è un cuore, ma c'è anche il simbolo del palloncino? Sì, sì. Ok. Questo è il logo che ha ideato e che vediamo appunto sul volantino. Romano, volevi dire, ti vedevo... No, volevo dire che si intende amore in senso generale, può essere per i fratelli, per i figli... Sì, sì, questo concetto è chiaro, per cui possono partecipare tutti, dal punto di vista organizzativo. La cosa importante è che con l'iscrizione, che abbiamo preparato una scheda di iscrizione, uno ritira il cartellino che appunto come copertura assicurativa serve anche all'arrivo. Ci si può iscrivere semplicemente anche dal proprio cellulare, digitando semplicemente, anche andando su Google, per sempre.me. Ok. E da lì ci si può pre-iscrivere. Per il sito e si fa tutto quello che è necessario. Importante iscriversi anche prima, secondo noi, che siamo della parte organizzativa, per facilitare il tutto, per scegliere la taglia della maglia, che poi quel giorno si può sfoggiare. Certo, per rendere tutto perfetto dal punto di vista organizzativo. Allora, abbiamo dato anche appunto la pagina Facebook dove potete leggere appunto anche le storie o comunque saperne di più sull'aspetto che sta dietro a questo evento. All'origine anche dello stesso. L'ultimo punto che dobbiamo ringraziare al Comune perché ha appoggiato il nostro progetto. Giusto. Questo è importante. Poi abbiamo una location bellissima. Quindi speriamo nel tempo quello... E si svolgerà comunque con qualsiasi condizione atmosferica. Certamente. Ritrovo dunque alle 9, partenza alle 10, di domenica 9 febbraio, prossimo con per sempre prima camminata dell'amore a Cividale. Ma non c'entra San Valentino. Non c'entra. Quindi anche se l'odiate andate lo stesso. Anche abbiamo aperto la pagina per sempre su Facebook. Ed è un progetto che continuerà quindi al di là di questa camminata. Grazie mille a Margherita Cozzi e Romano Paludniac per essere stati con noi. Grazie a te. Grazie a te.